Quante volte ci è capitato di dire fa freddo, mamma mia mi è venuto un gran mal di testa. Ecco, questo è possibile perché nei giorni più freddi dell'anno, e questi sono, è possibile che delle nevralgie o dei violenti mal di testa ci facciano un po' soffrire. Ne parliamo questa mattina con Pietro Barbanti, che è neurologo, direttore del Centro per la Diagnosi e la Terapia delle Cefalè e del Dolore presso San Raffaele Pisana di Roma. Grazie per essere con noi. Allora, ci conviene indossare il cappello di questi giorni? Indossare il cappello e mettere la sciarpa, perché è una cosa molto strana. Noi di solito applichiamo il freddo sul dolore, ma la testa vuole il contrario. Nessuno ha mal di testa entrando in una sauna, ma l'aria fredda che entra nel naso può svegliare le sentinelle che il cervello mette intorno a sé, anche fuori, cioè nel naso e nella mucosa del rinofaringe. Si chiama addirittura cefalea da gelato. Chissà quante persone in questo momento ci stanno vedendo e hanno avuto mal di testa violento al centro della fronte mangiando un gelato o il ghiaccio di un drink. Quindi questo è legato al fatto che le terminazioni del tregemino nel naso e nella faringe sono molto sensibili e anche perché il freddo dà una profonda vasocostrizione che può essere dolorosa. Quindi cappello ma anche sciarpa. E quindi freddo, colpi di piccone anche? Eh sì, c'è questa cefalea da nome stranissimo, adesso l'hanno reso ancora più difficile, il nome cefalea trafittiva, cute, idiopatica, insomma una picconata in testa. Riguarda il 5% delle persone può essere scatenata dal freddo e la si riconosce perché è un dolore che saltella da una parte all'altra della testa, di solito nelle parti anteriori. Riguarda le persone tra i 20 e i 40 anni, molto spesso... Ma è un dolore qui, poi è un dolore qui... Eh ma non è un doloretto, la persona sobalza spesso e si spaventa, mi verrà un ictus, pensa, però te ne accorgi perché dura molto poco, può prendere anche i bambini, quindi anche questo nel caso del freddo può essere più frequente. E i colpi di tosse? I colpi di tosse possono dare... Possono creare scadere malifesta? Sì, in alcuni soggetti che hanno il cranio conformato, non si vede da fuori ovviamente, in maniera particolare. La cefalea da tosse è una cefalea violenta che fa soffrire molto i soggetti, secondo i ricercatori giapponesi, la fossa cranica posteriore, che è una zona del nostro cranio, può essere costituzionalmente più piccola. Siccome dentro il cranio ci sono solo posti in piedi, perché c'è lo spazio per il cervello, per i vasi sanguigni e per il liquido che lo bagna, se tossisco molto e ho questa stanza un po' piccola, aumenta la pressione venosa, distende le meningi e viene un mal di testa che a volte dura delle ore. E sono soggetti in cui dobbiamo curare la tosse o un po' sgonfiare l'acqua che bagna il contenuto endocranico. Professore, so che lei ci tiene a sfatare alcuni luoghi comuni sulle cefalee, sui mal di testa. È un appello. L'appello chiaro è che la cervicale non produce mai mal di testa. Ma perché dico questo? Per un paio di motivi. Si perdono tempo a fare esami inutili, si fanno fare strane manovre al collo e ingolfano il Servizio Sanitario Nazionale di Risonanze Amnetiche del Collo, che nel mal di testa sono completamente inutili. L'altra leggenda da sfatare è la sinusite che provoca mal di testa. Non è vero. Non è vero. Quindi se abbiamo dolore sulla testa, prima di pensare a qualcosa che sta fuori dalla testa, pensiamo a qualcosa, cioè il cervello, in questo caso emicranico, che sta dentro la scatola cranica. E parliamone col medico. Non abboccate al collo. Questo è l'appello che mi sento di lanciare. Parliamo di cure, rimedi. Quindi che cosa si può fare, come si può curare l'emicrania? L'emicrania adesso conosce non una nuova primavera, conosce un rinascimento, perché è stato identificato una delle sostanze che è certamente un primatore. È una proteina piccola, si chiama CGRP, che viene sgocciolata dal trigemino sulle arterie del cervello e le fa dilatare. E ci sono due categorie di farmaci. Uno è già in commercio, sono degli anticorpi straordinari che bloccano questa sostanza. straordinari perché un'inenzione al mese, in genere, a volte ogni tre mesi, nessun effetto collaterale grande efficace. E poi delle piccole molecole che vanno a mordere il recettore per questa sostanza, che saranno commercializzate in seguito. Quindi davvero un nuovo destino. Professore, lei dice che per misurare l'emicrania serve un termometro diverso. Che vuol dire? Il termometro diverso perché l'emicrania, come amo dire io, è il prezzo pagato da un cervello troppo veloce per sopravvivere a se stesso. L'emicranico deve fare frequenti pit stop perché va velocissimo col cervello, un cervello iperattivo ha con poca benzina a sostenerlo. Se io ho tantissime emicranie e non devo chiedermi che strano morbo ho dentro la testa. Certo, sono predisposto, ma mi devo anche chiedere qual è il concime che sta arrivando. Lo stress, l'insonnia, la rabbia, la pressione alta. Quindi ci vuole un paziente meticoloso e un medico paziente. Un medico che abbia la pazienza di srotolare, di entrare nella vita, di sporcarsi le mani. Noi non dobbiamo curare le infermità, dobbiamo curare le malattie, cioè i malati. Entrarne nella loro biologia, vengono fuori cose incredibili. Io ho una paziente che si è venduta l'oro per comprarsi di nascosto gli analgedici. Un paziente che ne prendeva mille al mese per tanti anni. Queste sono storie che ho anche descritto e che davvero ci fanno pensare che l'emicrania è un personaggio in cerca d'autore che deve essere sdoganato. A proposito di quello che ha scritto, c'è il suo ultimo libro che noi proponiamo in grafica. Tra mal di testa e fake news, insomma, forse possiamo provare a fare un riassunto di quello che ci siamo detti finora. Ma direi pochi messaggi non banali però. Il primo, chi ha l'emicrania ha una cosa dentro la testa che funziona troppo, non troppo poco, ed è il cervello. La seconda, l'emicrania è un tragico equivoco. È un cervello che come una guardia del corpo spara a chiunque, in realtà dovrebbe sparare solo ai nemici. Il terzo punto, esistono cure, ne abbiamo detto prima, straordinarie. E infine, ci sono delle storie che racconto, che ci fanno veramente capire il grado di sofferenza. I nostri pazienti vagano e impiegano in media, pensate i pazienti con l'emicrania cronica, 20 anni per arrivare a trovare un centro delle cefalee. E ci sono delle storie incredibili. Una storia di una donna che era stata nove anni in carcere e non me l'aveva detto. Una carcerazione, tra l'altro, senza motivo. Insomma, l'emicrania, quando diventa grave, ha sempre un suggeritore occulto, che sta nella vita spesso. E questo è il fascino di questa malattia, di questo mestiere, in cui si sposa la biologia con la biografia. Cioè i fatti medici con i fratti propri. Ci sono delle categorie lavorative più esposte all'emicrania, per esempio? Insegnanti. Ma gli insegnanti sono sottopagati, sottostimati. Devo avere a che fare con tanti ragazzi e molte volte con i genitori che sono più stressati dei ragazzi. È una categoria assolutamente a rischio. E poi una terra di nessuno, questi ragazzi 16, 17, 18 anni, col cervello ormai folgorato dall'attività, non parlo del DAD che forse è anche considerato troppo spesso impropriamente stressante, cellulari, tab, amicizie virtuali, dormono poco, non fanno le loro pause, non fanno più la vita dei ragazzi, hanno immagine e non le creano. Perché se io ti do le immagini col cellulare, tu non le crei con la tua mente. E quindi direi queste due fasce. E poi ovviamente grandi manager, molti medici, molti infermieri, persone che non seguono i ritmi. C'era un famoso politico della Prima Repubblica che soffriva di emicrania ed era famoso per questo, anche per questo, che diceva che c'era un club mondiale dei malati di emicrania. Sì, molte persone, e lo stesso politico raccontava di aver vomitato dentro la tuba andando a prendere un presidente da lei a Ciampino con lei. Però c'è da dire che molte persone intellettuali, proprio per questo Giove si fa aprire la testa con un colpo di scure per una terribile emicrania ed esce fuori Minerva, la dea della sapienza. Questo vuol dire che è anche il peso del pensiero molte volte che carica l'emicrania. Bene, grazie davvero professore per tutti questi preziosi consigli. Ricordiamo il suo libro Emicrania. Adesso, TG1.